La processione della Santissima Trinità a popoli terme è un rito che si ripete ogni cinque anni ed è un evento di grande significato religioso e culturale. Questa tradizione coinvolge migliaia di fedeli e semplici curiosi che si radunano per assistere a uno spettacolo unico nel suo genere. La protagonista di questa processione è una statua linea risalente al 1712 realizzata dai ministri della scuola napoletana. Questa imponente statua pesa circa quattro quintali ed è portata in processione da due squadre di dodici portatori ciascuna. La sua bellezza e antichetà la rendono un simbolo di fede e devozione per la comunità locale. La particolarità di questa processione sta nella sua frequenza, viene svolta ogni cinque anni e la ragione risiede nella grande difficoltà che i portatori affrontano nel rientrare la monumentale statua della Santissima Trinità. Dopo averla portata sulle spalle per l'intero tragitto, già stremati dalla fatica, i portatori sono chiamati al momento più spettacolare per correre la storica scalinata che porta la chiesa tutta ad un fiato e senza interrompere la corsa. Anche se si verificano contrattempi, la corsa deve essere continua e lineare. L'emozione e la fatica si fondono in un unico momento di devozione e sacrificio. La manifestazione è organizzata dalla confraternita della Santissima Trinità e coinvolge tutta la comunità. Il Vescovo di Summona Valva, Michele Fusco, insieme ai parroci locali, partecipa alla processione, testimoniando l'importanza di questa tradizione per la fede e l'identità del luogo. In questo evento la Santissima Trinità diventa più di una statua, è un simbolo di amore, unità e perseveranza. La fede dei portatori e dei fedeli si incarna in ogni passo mentre la statua torna alla sua dimora, la storica chiesa dell'omonima Santissima Trinità. Questa processione che per noi è molto toccante perché a parte si esegue ogni cinque anni, è molto partecipata, ci sono tante associazioni sia religiose che culturali anche dei paesi limitrofi, anzi ringrazio anche la partecipazione di parecchi sindaci del territorio e niente, vedo una grossa partecipazione e per fortuna quest'anno riusciamo a fare la proiezione senza un... con un tempo adeguato perché negli ultimi anni abbiamo sempre sofferto un po' la pioggia. Noi di Manopello è un grande piacere ed onore essere qui presenti oggi, chiaramente in rappresentanza della nostra cittadinanza anche perché Popoli è un comune vicino e vedere tutti questi fedeli vicini alla Santissima Trinità che è appunto un evento diciamo che non si ripete annualmente la processione che viveremo oggi è alquanto emozionante. Momento molto sentito da tutto il popolo di Dio anche grazie al fatto che c'è una confraternita dedicata alla Santissima Trinità e questa bellissima Chiesa. La Trinità ci richiama la famiglia di Dio che non ha voluto rimanere in cielo ma ha voluto costituire una famiglia sulla terra che è la Chiesa. Quindi è festa in cielo per la Santissima Trinità è festa sulla terra perché è festa del popolo di Dio di tutti coloro che sono battezzati e credono nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Quindi lo diamo alla Santissima Trinità perché dal cielo è scesa sulla terra per abitare con noi e per costituirci tutti i fratelli e in questo senso chiediamo alla Santissima Trinità che sempre di più sbocci la pace in tutto il mondo. Oggi è un giorno molto sentito in questa carissima comunità di popoli terme e soprattutto vedere questa Chiesa tanto amata nel più alto luogo del paese ci ricorda a noi con la fatica dei portatori di questa bellissima e antichissima statua ci ricorda a noi che insieme dobbiamo essere testimonianza di questo amore di Dio che è capace di trasformare la vita dell'uomo di sanare, di guarire, di perdonare di ridarci la speranza. Una festa che aspettavamo da cinque anni in quanto festeggiamo qui a Popoli ogni cinque anni molto sentita da noi della confraternita ma da tutta la comunità di Popoli è stato faticoso però estremamente emozionante io ringrazio tutti i confratelli che si sono adoperati per la riuscita di questa manifestazione in particolar modo i portatori in quanto questa statua che vede alle mie spalle è veramente molto pesante è difficile da portare in processione per cui veramente faccio le mie congratulazioni anche a tutti i portatori e viva la Santissima Trinità!